Io non saprei proprio dire dove sta la creatività. Quando arriva sono contento, io aspetto quel momento. Quindi tu e voi avete protetto la naturalezza con la quale arriva l'ispirazione. Ma io entro nella sala principale e mi fanno, sai che hanno sbattuto fuori Luca e l'Alberto? E io, no, vabbè, ma c'hanno 40 anni, ma basta. Dieci minuti dopo ero stato sbattuto fuori anch'io e ci siamo ritrovati al bar insieme.